Martina è la sorella di Samantha e a vederle sembrano l'uno al posto dell'altra. Samantha è sempre di messa, cerca di convincere se stesse agli altri, dell'esteriorità non le importa niente. Invece Martina ci tiene alla sua bellezza, le piace sentirsi belle, le piace piacere. Però non è per questo che hanno rotto molti anni fa, è successo qualcosa, è un numero passato e qualcosa si è spezzato. Forse non rimanere rimediabile, ma fa ancora male.